Bene. Andiamo avanti col prossimo livello. Speriamo di sbloccare tante belle abilità buone. Caverna gelata. La caverna, la caverna, la caverna. Io la gelo, io la gelo in caverna. Vado in caverna. Siamo sicuri che questo sia l'inferno. Questo è un regno di sofferenza senza fine. Accettane la desolazione. Frozen Kingdom, veni? Sì. Eh sì. Accettane la desolazione. Desolazione. Bulgrim ha menzionato quattro fari che devono essere accesi. Eccoli. Allora diamoci da fare. Accendiamo questi fari, va. Accendi il faro. Maneggia. Allora, mappa. Mi faccio una snowboarderata fino al mattino qua. Minghie. Tento, attento, attento! Cos'è? Cos'è? Ah, ok. Ah, non abbiamo visto se siamo a livello giusto. Secondo te siamo a livello giusto? Sì, sì, sì. Ok. Ah, c'è una pulce dove sono io. Attento, torre! Perché? Se vieni da me ci sono due pulci, ne ho prese due. Due pulci anche qui, otto pulci! Ehi! Arrivo, arrivo! No, no, ce n'è una. Ah, una, ok. Una bulge in qua, una bulge... Qua sta che cos'è sto? Pulce delle scorie. Perché pulce? Bisogna vedere com'è in inglese. Attento! E' tornato, grande cavallo. Tu pulci senza cavallo, veni, ma tu pulci senza cavallo. Eh, veramente. Ah, ma qua sta la... Ma che cos'è sta mappa? Corre! Ah, ma dobbiamo esplor... Non, non, non... Cos'è? Attento! Attento, torre! Eh, così. Attento! Eh, e dietro, dietro, dietro! Finca che bombe! Che bombe! Senti, ho capito, eh. Guarda comunque le finisher! Sai lì che gli manca tanto così? Eh, pulce! Eh, che belle pulci che vedo! Guarda un anti-pulci qua! Ma non è grosso, vini! Si! Non è... Le butande enormi! C'ho enorme! Ahahahah! Sono volati via! Non sono avventati! Aspetta, c'era una pulcio importantissima! Quindi, comunque, niente. Ogni volta che facciamo un livello, la volta dopo dobbiamo rifarlo. Per salire. Per livellare sti affari. Bonne, guarda quante! Ma scemele! Ma secondo me devo accendere qualcosa. Che dici? Ah, Nettore, vuoi accendermi? Ah, aspetta un po' che dia non vuoi... Allora, come si fa più? Ehm... Ah, ma si può andare bene? Aspetta, così. Vabbè. Quanto io... Faccio una mambella! Così? No. Qua secondo me c'è da accendere qualcosa. Sarebbe giusto, ma non... Non... Dove sono le fiamme? Ah, forse questa... Aspetta, forse quella fiamma lì in cima, vediamo un po'. Oh, accendi un po'. Aspetta, eh. Così. Pizza un po' la... La... C'è soltanto... No, perché c'è solo quel falò. No, niente. Forse qua non... Forse qua non c'è niente. Anche perché dalla mappa non... Non vedo forzieri, non vedo cose strane. Vabbè. Tu lo stai facendo... Ah, bravo! Grande! Aspetta, com'è che si fa? Così. Così. No. Ok. Cioè, per qualche motivo non va fin lì. Vedi, ora... Adesso sì. Giusto, giusto. È adesso. Mezz'ora che ci sto provando. Adesso qua... Vieni in gallerone, torre! L'accendilo! Accendilo! E' a govando! Accendilo! Grande! Ma dai! Cos'è sta roba? Ti recendo in altri tre! Bellini! No, tutti così! Facciamo una barba e cuffa, facciamo! Su! Fino alle due... Fino alle due siamo ancora qui! Ahahah! Con quel cazzo di rotellini, Bellini, voli! Ahahah! Di rotellini! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Ciao, bishma! Ma... 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 Ah, proprio così! Dun! 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 Faccio la V! Faccio la B! Faccio la B! Ahahah! Guarda, la tua finisher! Grande, ragazzo! Hai finito così bene! Un Seguccio! Grande, Seguccio! Aumenta l'attacco! Wow! Ma che belli questi potenziamenti così! Poi che dici, devo darci due uomo di rotellina? Devo farlo rotellina, no! C'è una... Ma... 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 Piole! E questi? Eh, li abbiamo liberati tutti così! E liberali! No che belli questi giochi alla massoneria! Ma troviermene degli altri così giù li! Forse meno fasi... Meno enigmi... Proprio massoneria! Cazzoeleno! Eh! Te lo programmo io! E venimi! Solo dove devi premere un tasto e basta che... chodzi avanti da solo, praticamente! Buono La mappa cosa dice. Siamo nella nebbia siamo nella nebbia Gelata passiamo non si muore Gelata Ma che ma poco l'aria d'inizio forse Ecco qua c'è un altro torrivo arrivo arrivo Ah devo accenderlo ah beh ma questo è più questo è facile basta che faccio così Così ecco ecco vado MING è facile Io non so perché ci mette tanta da girare la rotellina Quando vedo che carica così Dai 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 qua c'è un tesoro Mangi un cioccolatino Ah qua ci sono delle belle No piano piano spazio ah ok bene bene Ok ok Vedete che cazzo saranno berimbo Ah qua c'è una porta dell'inferno Ah no che è qua che dobbiamo No vabbè questa è la ok Accendi la torre Andiamo su di qua Eccoli Eccoli Ah qua ci sono tipo quelle piattaforme lì ci vuole un'abilità speciale che dobbiamo sbloccare Grazie Qua ci vuole un'abilità che ci fa saltare qua in alto Io so Allora mappa No sembra che qua non c'è niente Come facciamo a trovare la torcia gelata Qua c'è un pilastro qua Qua c'è un pilastro qua Vengo da te Vengo da te Che un cazzo Ah forse qua ok Faccio qualco Ah Giuli La verità Ma sai che anche io non sei No Anche io non sento la tua voce quando Giuli Allora c'è un problema di Ma chi è sto qui Oh ma esci fuori E combatti da uomo Guarda te Vieni qua E stai buono Ma cos'è Un come un booster lì Ma l'ha fatto rotteare L'ha fatto rotteare L'ha fatto rotteare con un poverino No, secondo me c'è qualche problema La re di connessione E la E il wifi che non ce la fa più Tra un po' Tra tanto non potrò più giocare tra poco Voda fa un... Aspetta, mi stanno picchiando Mi stanno picchiando Aspetta Arrivo Ti porto tutti i minion Vengo da te Ah, grande Ok, dimmi, dimmi Cos'è che hai visto? C'è da fare la... La giocata Ah, è vero, è vero E dai Ti accendini Ah, l'hai messa a te? L'accendino? Ah, aspetta Bisogna portare fuoco fin qua? Almeno sì Ma se io sparo quell'affare lì non succede niente, è vero? Vuh, non... Ah, eccolo qua, qua c'è un focolare Arrivo Di metri di qua, di metri Mio, no Come faccio a prendere la mira? Da lì a lì Allora, vediamo un buon Io non voglio il... Credo Il cozzino qua No, benissimo Eh, no, non ci arrivano Eh, però non mi fa mirare l'altro Aspetta, eh Così Non so come si può fare E così Eh, no, mi è andato a quel paese Vabbè, dai, andiamo avanti Sì, sì Ci torneremo qua un'altra volta Ma c'è la chiave, venì Eh La chiave La chiave Che cazzo è Oh, questi co... No, aspetta, questo è interessante Hai bisogno di un aiuto Cosa bisogna ammetterla sull'inferno Eh, si può... Ragione in più per agire rapidamente Lucifero farà in tempo a convertirti Il consiglio ha decisamente un conto in sospeso Con il tradiscelo Non sappiamo nemmeno cosa abbia... La nostra causa Eh, dovresti provare a farne qualcuno anche tu ogni tanto Smettila di fare il bravo soldativo Ok Ma immagino sia più facile fare ciò che facciamo Se... Fratello per il tuo bene Proseguiamo Ah, sono fratelli Eh, sì, sono fratelli Allora, qua niente cavalli Beh, qua, boh, liberiamoli tutti Sono tutti mossi Venite E uscite fuori Dun Dun Oh, ma io primo F Cosa me ne frega Ok Eh, ma qua è piena di fa... Cos'è sta roba? Eh, sì, è arrivato lui È un'accensione... È un'accensione fino al mattino Mi fanno male, eh? Cioè, io sto dando la massoneria Ma mi negrano Oh... Eh, là c'è... C'è il grosso Distruggiamo! Sì Vieni qua, buh... Beh, ha lanciato la spagna Eh, dun, dun, dun Ah, dun, 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 dun Ah, ce l'ha con te Bene Dai, una bella F ora Una bella pulce Esatto Devi... Eh, lo tocca a me Sì, sì Parti un fuoco l'aria fino al mattino Però come... Allora Da qui? Uno l'ho visto, allora Di accendere tutto Uno qua Oh, così Chiudo il fallo come stai Eh, no, devi portarcelo il fuoco Eh, non gliel'ho portato? Io non lo vedo Ah, no, scusa No, no, al contrario Sì, sì, ok, ok Basta Eh Anche di qua forse si può andare Così Sì, sì, si può andare C'è qualcosa dietro Ah, arrivo Come si distrugge Ah, quelle bombette lì Dobbiamo andare a prendere una di quelle bombette che abbiamo visto prima Facciamo una cosa Intanto che accendo Vai a prendere quelle bombette indietro e portala qua Così poi intanto Prendiamo due piccioni con una fava Intanto Accendo qua Anche qua c'è qualcosa di nuovo Io sto per accendere, eh Faccio l'ultimo falò Ok, è arrivato, è arrivato, è arrivato Uh, non è arrivato Aspetta un altro Accendo intanto, tu accendi Ok Minchia Io non attivo qua Doom 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 No, 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 mi sto negrato No, no, arrivo, arrivo Arrivo, 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 arrivo Sto arrivando Oh, yeah Doom 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 Eccomi Oh, oh Ah, te lo stavi facendo dalla distanza proprio Alla grande Alla grandissima Ancora con te ce l'ha Vieni qua, amico Doom Doom Ecco, vanno Qua c'è qualcosa, mi sembra Vengo, vengo Simbolo di Hearthstone Ah, è vero Ah, ci sa quale potere oscuro ci vuole Cos'è, si buttano, si buttano Ah, 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 ah Sono lanciati, vieni Allora Vediamo, magari con la mia Vediamo così E così E così No, allora, la falce non funziona, niente. La girella, no. Voglio prendere la bomba. Sì, sì. Sto arrivando con la bomba. Ale, si va. Cos'è, venì. Con la bomba in mezzo... Le nevi, qui. Sto andando così? Sì, sta andando così bene. Poi scopriamo che non ci vuole la bomba. Ma porca miseria. Buona la bomba. Buona la bomba. Ma mi sa che ce ne vuole anche più un'altra. No, no, doppia. Sì. Ok, te l'accendo. Allora, come si fa più? Così, così. E così. Ma grande, ragazzo. La chiave cosa c'è qua? La chiave, la moneta. No, avevi ragione. No. Vabbè, dai, porti, arrivo. Andiamo a prenderci. Andiamo avanti e indietro che non finisce. Dai, cavallo. Non c'è il cavallo qua? No, voglio il cavallo. Prima io, forse. Minchia, come... Tutta la... Quanti indietro fino al mattino mi devo fare. Dun, 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 dun. Ah, forse, però, se ne prendi uno anche te... Sì, sì, arrivo, arrivo. Ne prendo uno. Sì, sì, facciamo prima. Però no, non puoi, perché tu... Non puoi, perché... Ah, no, prima la lancio. E poi la... L'accendo. Sì, però... Come hai fatto a prenderla? F? Devo usare... Alan! Sì, ho capito... Ok, ok. Il laccio. Sì, il cuo di Jack. Esatto. Come si mette più il laccio? Come è il laccio qua? Eh, lo sai. Ah, ok, così. Poi devo premere questo. Poi fino al mattino... Dun, 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 dun. Alla scampanara. E non si può correre, no? No, con il laccio in mano, no. Eh, sai, sono... Però come fai... No, però aspetta, no, c'è un problema. Ah, perché è vero, io prima... Eh, sì, se lo lancio lì... No, è che posso attaccare da qualche altra parte? No, è che non c'è il fuoco, non c'è... Non ce la facciamo a farcela arrivare? Forse ce la fa, non so. Eh, devo prendere bene la mira. Ma... Vieni! Arrivo, arrivo, sono lento, cioè... Ah, l'ho acceso! No! No, mi ha esploso! No! No! Ma no! No! Ma che sca... Ma perché? L'arriva tanto così. Sì. Sì, no, in effetti come faccio, anche se fosse, cioè... Eh, qua c'è... Uno, non so se riesci a fare così e così. Qua ce n'è uno? Qua dietro, questo qua. Ah, quello lì, sì, sì, sì. Eh... Capito che qua ci vuole YouTube. Non so come funziona il tuo... No. No. Ecco. Andiamo. Eh, no, no, no. Non ce la fa. Si blocca. Eh, non so. Ci vuole un bel YouTube, ragazzo. Abbiamo preso uno, ma non so se... E poi qui... Di là si... C'è dell'altro, poi. Eh, sì. No, non... Non c'è. Se vuoi ti faccio provare a te, ma non... No, 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 no. Tac. Però non va oltre. No. E se lo faccio rimbalzare tipo di qua? E poi di... No, così. Però facciano... Andiamo un po'? No, ho sbagliato. No, niente. Ma che non ce la si fa. E anche stavolta ci vorrà un... Vabbè, YouTube alla prossima volta. Andiamo avanti. Tutto.